Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Dopodomani, venerdì 25 gennaio, insiste sull'Italia ancora la perturbazione numero 9 giunta nella giornata odierna. Perturbazione che porterà piogge ancora sulle regioni del medio adriatico al sud e ancora nevicate fino a quote piuttosto bassi, intorno a 100-200 metri, su Marche, Abruzzo e Molise. Ma vediamo l'immagine delle stradelle virtuali, vedete la perturbazione numero 9 che è sfuggita verso i Balcani ma la cui coda ancora ricopre gran parte dell'Italia. Vediamo allora che tempo farà al mattino, piogge lungo le coste marchigiane, abruzzesi, piogge sul Salento, sulla Calabria e sulle maggiori, nevicate intorno a 100-200 metri su Marche, Abruzzo e Molise e a quote intorno a 400-600 metri sulla Calabria e sulla Sicilia. Vediamo la situazione pomeriggio pressoché identica, direi che poco è cambiato, direi che restano sempre le piogge lungo le coste del medio adriatico al sud e le nevicate fino a quote molto basse, intorno a 200-400 metri, attenzione, soprattutto Marche, Abruzzo e Molise. Vediamo le temperature massime, una novità, le temperature massime caleranno di 5-6 gradi rispetto al giorno prima sul versante adriatico e 2 o 3 gradi sulle regioni di nord-ovest. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno!